Andrea, arriviamo alle dolenti note, la più eclatante, stavi iniziando a parlare prima, anzi l'unica, non è difficile da individuare, si chiama Wilson, ti chiedo andando subito al sodo, quale sia la valutazione tua e dello staff tecnico riguardo alla sua situazione in questo momento, quanto tempo sarà opportuno dare al giocatore? Il ragazzo è sicuramente in uno stato in difficoltà, è evidente, è un giocatore comunque che non ha capacità o il talento che può avere Bin per crearsi tiri da solo, non ci aspettiamo che prenda grandissime iniziative, Il problema vero è che neanche lui si sta aiutando, nel senso che è un ragazzo talmente buono, generoso, professionista esemplare, che arriva un'ora prima e si mette a tirare durante la settimana, finisce l'allenamento, tira un'ora dopo, Però sono quelle cose che poi ti portano, essendo stato un giocatore, ti portano a cercare delle sicurezze che mai arrivano, nel senso che tu vai un po' in over, vai in over di allenamento, vai in over mentale ed è un aspetto prettamente mentale, Il problema è che poi sei un professionista, sei giudicato per quello che fai, stiamo parlando di un ragazzo che ha giocato in campionati sicuramente minori rispetto all'Italia, Stiamo parlando di un ragazzo che comunque nelle sue stagioni viaggiava col 42% da tre punti in carriera nelle stagioni e in questo momento è fagocitato, mangiato dal suo aspetto, dalle sue debolezze mentali. E' logico che noi lo stiamo aiutando, gli stiamo parlando, domani mattina io avrò un colloquio con lui, Adriano lo aiuta con sessioni anche di video individuali, I ragazzi lo stanno anche accettando, il problema è che alla lunga poi giustamente il rendimento non è quello che onestamente ci aspettavamo, Sono molto chiaro sotto questo punto di vista, paradossalmente ieri siamo anche riusciti a mascherarlo, nel senso che poi ha giocato poi di fatto solo 12 minuti e col rientro di Kel, Kel è un giocatore che potrebbe anche tra virgolette ricoprire quasi tre ruoli con il fisico che tiene, Quindi vedremo, vedremo le prossime partite che saranno dal punto di vista diciamo tecnico, mentale, non devi giocare contro Milano e Virtus Bologna, però sono partite che poi devi cercare di portare a casa contro le tue dirette rivali, quindi vediamo, vediamo quello che lui, lui si deve aiutare un po' da solo in questo momento, perché poi sei un professionista, come ho detto prima. Ecco, Giorgio Tavola chiede, ma hai già anche risposto a questa domanda, se non sia troppo timido o spaventato anche dal nostro campionato, accennavi alle sue esperienze pergresse che non sono certo di campionati a livello dell'Italia, facevi accenno anche a questo, in realtà nella prima risposta non è facile giocare in un attacco fagocitato dalle personalità tecniche di un Gentile, di un Kel, di un Jones, ci metto anche lui, che non è certo timido con la palla in mano, anche se, come dicevi tu, nell'idea di costruzione di squadra, uno che non pretendesse la palla in mano, ma che potesse tirare bene sugli scarichi, c'era insomma. No, ma noi, premesso e dico, e non è un alibi, che per un mese noi non ci siamo, ci siamo allenati senza il playmaker titolare, che in teoria poi lui e Gentile sono quelli che lo dovranno innescare, soprattutto quando si scatteranno gli aiuti. Questo non l'abbiamo ancora visto, ieri non ha preso neanche un tiro. È presto, onestamente, per prendere decisioni drastiche o fare valutazioni definitive. Adesso cominciamo ad allenarci insieme, vedremo quale sarà la sua reazione all'ingresso di Kel, in pianta stabile e poi vedremo. Però sicuramente sullo spaventato no, perché sennò non giochi neanche a pallacanestro, voglio dire. Quindi sul timido forse sì, è un ragazzo molto introverso, è un ragazzo molto silenzioso e speriamo che il lavoro alla fine si possa sbloccare, perché alla fine io credo che il tiro ce l'hai o non ce l'hai. Lui ce l'ha, quindi è solo un aspetto proprio di sbloccarsi e sicuramente di adeguarsi al livello del campionato.